Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! È stata difficile per Mara Venier, che è stata più volte ricoverata in ospedale per un problema agli occhi. La conduttrice ha finalmente rotto il silenzio, parlando apertamente delle sue condizioni di salute. Intervistata da Dago Spia, Mara Venier ha deciso di rompere il silenzio sugli interventi agli occhi che ha subito negli ultimi mesi. Come aveva anticipato il marito Nicola Carraro, non è stata operata di cataratta, ma ha avuto un problema di salute molto più grave. Un'emorragia improvvisa. Mara Venier ha raccontato «Ho subito due interventi alla retina per un'emorragia improvvisa, e ora ne devo fare altri tre, sperando di riacquistare un po' la vista». Questa è la verità prima che si dicano cose non vere. La conduttrice spera di riacquistare la vista ed è pronta a tutto per riuscirci, prima di tornare in onda con Domenica Inn. Mara ha vissuto un'estate particolare, segnata dalla solitudine, perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli. Adesso suo marito Nicola l'ha raggiunta e sta trascorrendo qualche giorno con lui a Viareggio. Prossimamente la Venier verrà nuovamente ricoverata presso la clinica Piotenso di Roma, dove subirà altri.